benvenuti in questa 42esima puntata di scatti inquietanti con l'aggiunta di qualche scatto storico iniziamo quest'oggi con uno scatto inviatomi dall'angolo del frank il cui canale potete trovarlo in descrizione gennaio 2021 frank intento a scattare una foto a nimue la sua gatta mentre lavorava al pc usando premier pro soltanto dopo però si è accorto della particolare sagoma di una donna sul case in alto a sinistra diverse persone hanno visto questo scatto compresa giada sua compagna di vita e qualcuno di loro dice di averci visto anche una finestra effettivamente osservando bene lo scatto potrebbe anche trattarsi di un riflesso data la particolare illuminazione ma nonostante i vari dubbi e le possibili spiegazioni il mistero rimane ditemi quindi voi di cosa potrebbe trattarsi secondo le vostre personali opinioni lo scatto che state guardando risale il primo novembre 1952 all'incirca 68 anni fa erano le 7 e 15 di mattina nelle isole marshall in una giornata calda tipica del pacifico tropicale si accese un secondo sole in pochi secondi l'isola di eluge lab venne vaporizzata e dal mare si sollevò una palla di fuoco ampia sei chilometri e mezzo ivy mike così fu chiamato questo esperimento il primo test di una bomba termonucleare quando gli uomini misero le mani su un potere inimmaginabile e sembravano non veder l'ora di metterci le mani sopra una foto apparentemente innocua di due bambini un maschio ed una femmina insieme ad un nuovo nascituro della famiglia del quale purtroppo non conosciamo la data per quanto possiamo focalizzarci sui tre soggetti però l'occhio ricaderà sempre su un dettaglio in particolare che magari ad occhio nudo non ci sia nemmeno fatto caso il bambino più piccolo e sì seduto su qualcosa e quel qualcosa pare essere proprio una persona coperta da un lenzuolo una spiegazione possibile di questo scatto è che non avendo magari una vera e propria poltrona la persona si sia seduta su una semplice sedia così da replicarla lo scatto che state guardando è diventato famoso nel 2008 quando è stato persino pubblicato sul The Sun anche se risale al 2003 ed è stato fatto vicino al villaggio di Evergridge il fotografo di questo particolare scatto afferma di non aver visto nessuno in quel momento nonostante sia riuscito ad ingannare milioni di persone la verità e poi uscita fuori il bambino della foto non è altro che Jake Lloyd l'interprete bambino di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars photoshopato al di sopra dell'immagine e neanche venuto fuori tanto bene ebbene quella che state vedendo non è una fotografia bensì un dipinto opera di Jason e Terry Wilson tratto da una storia realmente accaduta seconda guerra mondiale un pilota americano intento a sorvolare la nuova guinea avvistato leggendario ropen pterosauro vivente che si diceva abitasse ancora quell'isola di ritorno alla base il suo ufficiale lo minacciò di punirlo per aver condiviso la storia forse perché in fondo non credeva alla storia del pilota oppure perché il governo desiderava mantenere il segreto di quella creatura pur non considerabile uno scatto vero e proprio racconta comunque una situazione che si dice che possa essere reale anche se ovviamente sta a voi deciderlo ci tengo a condividere con voi questo fotogramma per quanto famoso e conosciuto possa essere derivante dal famosissimo filmato Patterson Jimlin Bigfoot registrato il 20 ottobre del 1967 è stato girato a creek in california quest'anno nel 2021 compie ben 54 anni il video che ha portato al mondo la conoscenza del misterioso criptide chiamato bigfoot o da noi conosciuto come piedone vi ricordo che se avete degli scatti da segnalarmi potete passarmi in privato tramite la pagina facebook ciao ciao ciao